Grazie a tutti, il Signore sia con cuore, e con il tuo Spirito, e ancora la benedizione di Dio ripetente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Grazie a tutti, il Signore sia con cuore, e con il tuo Spirito Santo. Maria di Pestadona si ti bella, e di luce, lui si ti la stella, e di luma, si ti la puntata, e di luma, si ti la puntata, e di luma, si ti la protira, e di luma, si ti hanno, inтакa, e di luma. Grazie a tutti.